Chi gioca a Roma, chi rappresenta la Roma, deve giocare sempre per vincere. Deve difendere questa maglia, giocare sempre con ambizione, è il principale stimolo. Posso parlare di queste due stagioni con me. Per esempio, in questa stagione abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. Abbiamo avuto la situazione di Zagnolo e di Cris, che non sono infortuni muscolari. Ma dopo, fino a marzo, quando arriviamo a marzo, giocando tre partite per settimana, sempre con gli stessi giocatori, ha successo. E dopo, con più partite, senza avere tempo per preparare i giocatori che erano infortunati, ha successo più infortuni in questo momento. Ma, come ho parlato nel passato, penso che questo ha successo un po' in altre squadre in Europa, che hanno giocato più partite. Mi ricordo adesso che Bayern ha giocato con PSG senza sette titolari. Sono situazioni che, in questo anno in particolare, con Covid, con più partite, hanno successo più. Ma, come ho detto, fino a marzo non abbiamo avuto problemi particolari. La primavera ha un congiunto di giocatori che lavorano bene, che hanno lavorato con la prima squadra e che tutti possono arrivare alla prima squadra. Ma non è giusto dire un nome specifico per il futuro. Penso che nella primavera hanno giocatori preparati per entrare nella prima squadra. Lavorare con la prima squadra, conoscere le nostre idee, questo è importante, ma devo anche dire che ha una connexione con la primavera che permette di avere questi giocatori preparati per la prima squadra. e poi il mister ha fatto un grande lavoro, le staff, il mio staff, che stanno sempre insieme parlando. Ma questo è un merito non solo nostro, ma anche di chi lavora nella primavera e principalmente dell'allenatore della primavera. Grazie a tutti.